Sabato 18 dicembre e domenica 19 dicembre alla città del teatro di Cascina potrete assistere a due veri capolavori dell'arte del racconto orale. Naturalmente sono capolavori perché a interpretare questi due racconti ci sono io, sono Marco Bagliani, e sono veramente stupendi. Il sabato assisterete a Colas. Colas è una storia grandiosa che si svolge in Germania nella metà del Cinquecento, ma non ve la racconto adesso. È il mio cavallo di battaglia, nel senso che durante tutto lo spettacolo cavalco su una sedia per diverso tempo, senza mai alzarmi da lì. Ed è il primo esempio di teatro di narrazione. Quando l'ho fatto a Milano più di trent'anni fa è stato nominato teatro di narrazione e nasce lì. E quindi assisterete alla 1104esima replica. Certo il mio corpo è un po' più vecchio, ho meno capelli, però va sicuro che la potenza del racconto è rimasta intatta. Quindi vi aspetto. Domenica invece metterò in scena Frollo, che è una fiaba, non dico per bambini o per adulti, perché quando la faccio poi in serale, un po' meridiana, sono più i genitori che si divertono e non i bambini. No, non è vero. I bambini anche si divertono molto, ma ridono e si divertono, si agitano, si emozionano in punti diversi dagli adulti. E questo è bellissimo, vuol dire, come tutte e due piombano nello stupore, gli adulti ho la bocca aperta, gli occhi spalancati, e però sono stupori diversi. E questo mi piace molto perché vuol dire che è un'opera d'arte. L'opera d'arte è quando chi la va a vedere, chi la guarda, chi la assiste a un'opera d'arte, può leggerci dentro misteri diversi, immaginazioni diverse, consigli diversi. Questa è la fiaba. E quindi vi aspetto anche domenica. Possibilmente poi quelli che vengono sabato, tornate anche domenica. perché due cose così non lo so se li vedrete nella vostra vita un'altra volta. Vi aspetto.